Buongiorno a tutti, benvenuti, buongiorno magnifico Rettore, buongiorno Ministro Onorevole Gravaglia, grazie agli ospiti e relatori che sono presenti per questo evento in streaming dalla Aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e oggi vi presentiamo questa ricerca dedicata a comunicazione, media e turismo e lascerei subito la parola per i saluti iniziali al magnifico Rettore dell'Università Cattolica, il Professor Franco Anelli. Rettore. Benvenuto signor Ministro, grazie della sua presenza qui, benvenuti ai relatori che illustrano questa giornata Congratulazioni al Professor Scaglioni, anche lui massimo come nostro Ministro per la ricerca che ha condotto Se noi dovessimo cercare la dimostrazione del valore della nostra scuola e dei nostri studi in materia di comunicazioni che in questa università risalgono all'autorità di Apollonio e poi di Betetini credo che oggi ne avremmo facile dimostrazione per la fine tempistica che è stata scelta di organizzare questa giornata proprio all'indomani di quello che è stato detto ieri al G20 che non commento ma che certamente, perché altri lo faranno, ma che certamente apre delle prospettive importanti e ritorna a mettere l'attenzione sul tema del turismo. Il signor Ministro ha nella sua responsabilità un'industria importantissima di questo paese, ma che non è solo industria, nel turismo convergono almeno altri due elementi, natura e cultura, che trovano, e questi tutti e tre insieme trovano una sintesi importante L'attrattività di questo paese nasce, trova origine nelle sue bellezze naturali, indubbiamente, ma non abbiamo il monopolio delle bellezze naturali mondiali, ne abbiamo alcune distintive, altri ne hanno ma è la sintesi tra questi scenari naturali di grande fascino e di grande bellezza e la loro antropizzazione la costiera amalfitana è bella, ma è ancora più bella perché ci sono come le cinque terre delle abitazioni umane per come gli esseri umani l'hanno abitata, l'hanno fatta loro, l'hanno resa un habitat umano e questo ci dimostra anche che ciò che attrae il nostro paese non è soltanto il valore degli scenari naturali che dobbiamo preservare, ma è il contesto culturale e venire in questo paese quindi significa immergersi in un contesto culturale comprendere una storia, comprendere un contesto sociale importante e di questo anche l'industria deve tenere conto l'industria del turismo è un'industria complessa, articolata che muove cifre importanti, che ha fatta dei suoi tecnicismi, che ha bisogno ma che soprattutto si regge sulla capacità di presentare ciò che abbiamo da offrire e di presentarlo in un modo integrato, in un modo che consenta a chi viene in questo paese di avere un'esperienza appunto culturale e personale significativa di non transitare davanti a delle vecchie pietre o ad una tela finemente o incomparabilmente dipinta ma di comprendere per quanto possibile, perché c'è troppo da conoscere per poter possedere tutto ma di comprendere per quanto possibile il significato, il valore che hanno avuto nella storia il perché quegli edifici, quei quadri, quei luoghi sono lì perché la cultura di un paese e la storia di un paese si sintetizzano in questo comprendere perché una certa cosa è lì, è arrivata lì ed è ancora in quel luogo e che significato ha avuto ed ha ancora trasmettere questo è estremamente importante credo che le agenzie di formazione come le università abbiano e debbano avere un ruolo in questo il turista di oggi non è più il viaggiatore del Grand Tour che aveva tempo perché era un privilegiato di studiare e di venire a raffinare la propria cultura in un viaggio che durava mesi è qualcuno che di necessità si sposta rapidamente ma ha bisogno di trovare appunto servizi, di trovare opportunità di svago ma di trovare anche l'opportunità di conoscere perché uno può portare a casa nella valigia tanti souvenir ma soprattutto porta a casa e questa è un'esperienza che facciamo tutti quando siamo a nostra volta turisti ciò che è rimasto nella sua mente, nella sua crescita personale e culturale e, e concludo, avere anche affrontato dal punto di vista scientifico il modo in cui questo paese si presenta nei media, si presenta nelle fiction è estremamente importante perché mi pare significativo lo scatola, il modo nobile di presentarsi non è quello di essere semplicemente un set di essere una location, di essere un luogo dove si piazza la macchina da presa perché, ripeto, sulla terra ce ne sono tantissimi, bellissimi non sono tutti entro i nostri confini quello che è importante è che quando nella rappresentazione che di questo paese si dà nella cinematografia, nelle fiction nei vari modi in cui questo appunto si può presentare vi è la rappresentazione di una cultura, di un contesto sociale e culturale di un sentimento nazionale, di un'attitudine delle persone questo in molti casi riesce quindi questo fa sì che il luogo Italia che si presenta non sia soltanto appunto uno spazio fisico o uno spazio fisico arricchito da un bel monumento o da un bel panorama ma sia uno spazio fisico e torno a quello che dicevo all'inizio e concludo abitato dalle persone quello, cioè il luogo in cui invitiamo le persone ripeto, non è un panorama, non è una spiaggia non è la vetta di una montagna ma è un posto dove stanno delle persone che sono a loro volta il portato, il risultato di una storia essere consapevoli di questo significa essere capaci di presentarsi e quindi di avere una relazione con chi viene qui che non lo rende solo un turista nel senso più consumistico del termine ma che lo rende un viaggiatore che abbia la capacità di entrare in contatto con un mondo nuovo che viene a conoscere quindi io vi ringrazio per tutto questo lavoro mi levo di mezzo ascoltiamo i relatori, ascoltiamo il signor Ministro per le cose che hanno da dire e ringrazio tutti per questa occasione di apprendimento buona giornata buongiorno, grazie magnifico rettore, grazie comunico ergo sum letto al contrario si può interpretare con se non comunico, non sono non esisto il turismo ha il diritto di essere uno degli attori principali della ripresa di questo paese ma lo deve comunicare deve saperlo comunicare per questo ho trovato molto interessante e stimolante questo lavoro e per certi aspetti anche estremamente discreto soprattutto quando elegantemente sorvola sulle carenze che ci sono proprio nella comunicazione del settore spesso mi sento dire qual è la tua politica per il turismo ma sinceramente resto un po' sorpreso da questa domanda l'Italia del 2021 non è l'Unione Sovietica degli anni 50 chi pone domande del genere pensa che il governo i governi abbiano la bacchetta magica e con piani pluriennali di programmazione come l'Unione Sovietica appunto i governi non fanno il PIL ma i governi possono fare regole per migliorare la produzione di ricchezza o peggiorarla se fanno scelte sbagliate ma non fanno il PIL è il mercato a fare il PIL in alcuni casi i governi hanno l'obbligo di intervenire nel sostegno a chi soffre e particolari situazioni di disagio e tutto sommato mi sembra che questo governo stia operando in questo modo fa regole che agevano alla crescita del PIL e dà sostegno ai settori in difficoltà per esempio ieri quando con il Premier Draghi abbiamo comunicato che gli stranieri possono venire da noi senza la quarantena abbiamo fatto in modo che si faccia PIL cioè che il mercato possa fare PIL questo è un esempio di quello che può fare un governo siamo in un momento molto delicato e non mi riferisco solo agli equilibri della maggioranza negli USA ci sono stati più morti di Covid-19 della somma delle due guerre Vietnam e Golfo messe insieme e in Italia purtroppo la situazione non è molto diversa lo scoinvolgimento sociale prodotto dalla pandemia sta ristabilendo un ordine mondiale che era sconosciuto in precedenza ha portato miliardi di cittadini a rivedere le proprie abitudini e chi ne ha sofferto di più è proprio purtroppo il turismo i signori di Mediaset sanno bene come funziona quando c'è una crisi i primi investimenti tagliati sono quelli pubblicitari così è stato per le famiglie quando c'è una crisi le prime spese ridotte sono quelle delle vacanze inoltre siamo anche stati tutti chiusi nelle nostre case per il lockdown però mi piace pensare a questo 2021 come l'anno zero anche per il turismo immagino il turismo per il turismo il covid come la safety car in un gran premio c'è stato un incidente entra la safety car e adesso siamo tutti allineati tutti sulla stessa linea e poi vince chi ha l'accelerazione migliore e posso dire che il governo ha messo in campo e sta mettendo in campo delle azioni che consentiranno agli operatori del turismo di avere l'accelerazione migliore degli altri lo dico schematicamente l'azione del governo per il turismo ha tre gambe la prima sono gli interventi di sostegno agli operatori la prima cosa che abbiamo fatto è stato sbloccare 500 milioni di euro mezzo miliardo che era fermo che non erano stati distribuiti quindi prima cosa distribuire le risorse esistenti la seconda cosa abbiamo messo in campo delle risorse in più un miliardo e sette nel precedente decreto sostegno e adesso ne arriveranno ancora nel prossimo decreto sostegno la seconda gamba riguarda gli investimenti finanziari gli strumenti finanziari che possono sostenere gli investimenti degli operatori del settore e migliorare gli impianti verranno messi in campo e messi a disposizione degli operatori strumenti finanziari come mini bond, basket bond altri strumenti finanziari proprio per allentare la stretta creditizia e ovviamente essendo anche garantiti da istituzioni pubbliche riusciranno proprio a dare un sostegno vero agli operatori con l'obiettivo che questi strumenti possono rappresentare un ponte finanziario per consentire agli operatori di comprare tempo in attesa che il mercato riprenda e ci auguriamo già da questa estate la terza gamba è il PNRR abbiamo messo a disposizione 2 miliardi e 4 600 milioni sussidi e 1 miliardo e 8 sotto forma di prestiti sempre riservati alle imprese poi considerando l'effetto leva è anche qualche miliardo in più in questo modo il governo penso abbia rispettato il ruolo di favorire l'introduzione di regole e dare aiuto per favorire la ripresa del mercato ma ne manca ancora una e è l'argomento che abbiamo approfondito durante il G20 del turismo che si è svolto ieri vale a dire regole comuni per agevolare la circolazione abbiamo convenuto sulla necessità di uniformare i meccanismi che regolano gli spostamenti attraverso un riconoscimento dei vaccini su questo punto come potete facilmente immaginare c'è stata qualche rigidità da parte di Russia e Cina verso Europa e Stati Uniti ma credo che con il buon senso e ne ho trovato davvero parecchio intorno a quel tavolo virtuale queste rigidità potranno essere superate non entro nel merito dello studio altrimenti toglierai spazio a quelli che lo hanno elaborato ho voluto soltanto portare la testimonianza di un ministro che dopo 30 anni perché da 30 anni che non c'era il ministero del turismo ha come unico lavoro occuparsi di turismo a tempo pieno e sto scoprendo che il tempo è l'unica cosa che davvero manca per approfondire studiare e scoprire il nostro turismo grazie e buon lavoro allora ancora buongiorno quello che vi presentiamo oggi è davvero un'ampia ricerca che nel corso di un anno e poco più un anno e un mese ma in quest'anno davvero straordinario che abbiamo vissuto abbiamo deciso di dedicare al ruolo strategico che la comunicazione e media possono avere per la ripartenza del turismo nel nostro paese di cui parlava ora il ministro Garavaglia la ricerca è stata sviluppata da CERTA il centro di ricerca sulla televisione e gli decisivi insieme con Cattolica per il turismo e Publitalia 80 e è nata sostanzialmente per tre ragioni di fondo intanto il ruolo strategico che il turismo ha per appunto il paese alle prese con la ripartenza economica il riconoscimento che la comunicazione e i media sono chiavi fondamentali per far ripartire il turismo nel nostro paese e una visione sinergica che ha coinvolto tre soggetti diversi due interni alla Università Cattolica CERTA e Cattolica per il turismo e il gruppo Mediaset con Publitalia che ha sostenuto e reso possibile questa ricerca. Una ricerca vi dicevo molto ampia e articolata che abbiamo deciso di presentarvi in una sintesi oggi, una sintesi diciamo sufficientemente rapida in tre parti. La prima parte sarà illustrata dal dottor Vincenzo Zulli e si focalizza sullo stato dell'arte del turismo in Italia al momento della ripartenza e della auspicata uscita dalla pandemia. Si tratta come vedrete di una fotografia molto aggiornata con dei numeri molto freschi proprio che parlano dell'oggi. La seconda parte che vi illustrerò di seguito rappresenta la prima sistematica ricerca sul ruolo che i contenuti audiovisivi, quindi non soltanto l'advertising, non soltanto la pubblicità ma anche direi i contenuti editoriali, film, serie, programmi televisivi possono avere e hanno nella costruzione della notorietà, dell'attrattività delle nostre destinazioni turistiche e dei territori nazionali. Una terza parte illustrata dal dottor Cardani metterà in luce la molteplicità di touch points che oggi i media possono offrire per la promozione del turismo in un'ottica di marketing e di place branding. Seguirà una tavola rotonda che partirà anche dai temi che sono emersi in questa ricerca e che appunto discuterà di questi temi. Vi dicevo la ricerca è una ricerca molto articolata, si è sviluppata nel corso di un anno, è nata sostanzialmente subito dopo il lockdown, il primo lockdown del 2020, del marzo del 2020 e si è conclusa proprio lo scorso mese, nel mese di aprile, con una parte conclusiva di questa ricerca che è una parte quantitativa molto ampia, molto complessa, realizzata fra marzo e aprile del 2021, quindi da questo punto di vista è veramente molto recente e molto fresca. Ha incluso 6 mila interviste realizzate tramite la piattaforma di Toluna in cinque paesi europei per un campione rappresentativo di circa 300 milioni di cittadini europei. Quello che vi presentiamo in maniera sintetica questa mattina sono alcuni dei principali risultati di questa ricerca e di un database che abbiamo iniziato a costruire, che proseguiremo ad arricchire nel corso dei prossimi anni e che sostanzialmente incrocia lo sguardo di cinque nazioni, la stessa Italia, la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna e la Germania, sulle nostre 20 regioni e attraverso 20 driver fondamentali per il turismo. Dunque un patrimonio di conoscenza che l'Università Cattolica vuole mettere a disposizione del Paese. Per iniziare a cogliere alcuni di questi risultati, prima di lasciare la parola al Dottor Zulli per la prima parte della ricerca, volevo sintetizzare davvero tre punti che sono emersi in questa ricerca che a nostro avviso sono molto importanti. Primo punto, anche dopo la pandemia l'Italia rimane il primo Paese per preferenza di viaggio e turismo per il 70% degli europei, quindi questo vuol dire che il brand Italia non è stato scalfito dal periodo della pandemia, continua a essere molto forte e supera per esempio in termini di desiderio, di destinazione appunto turistica, altri brand altrettanto forti come quello della Spagna, quello della Grecia e quello del Portogallo. Dunque un punto di partenza molto positivo, ma secondo aspetto l'Italia ha un potenziale di scoperta ancora molto ampio, persino l'abbiamo osservato per gli italiani, pensate che un italiano su due conosce molte regioni italiane soltanto per nome ma non ci è mai stato e quindi ci sono molte regioni, molti territori che hanno un grande potenziale di crescita. Terzo punto, naturalmente il ruolo fondamentale che la comunicazione e i media possono svolgere da questo punto di vista, un ruolo veramente essenziale, oltre il 70% dei nostri intervistati riconosce che i media tradizionali, quindi cinema, televisione e i media digitali sono strumenti di costruzione di notorietà e attrattività per le destinazioni italiane, dunque di nuovo un grande spazio di crescita per il futuro. Ma vediamo adesso assieme con il dottor Vincenzo Zulli di Cattolica per il Turismo, la situazione del turismo in Italia alla vigilia della ripartenza e anche alla vigilia di una stagione estiva che rappresenta, come ha sottolineato il Ministro prima e il Presidente Draghi ieri, un'occasione per rimettere in moto l'economia del nostro Paese. Grazie e buongiorno a tutti. Abbiamo già ascoltato dagli interventi del magnifico Rettore e del Ministro come il turismo sia una risorsa vitale dal valore materiale e immateriale fondamentale per la vita delle persone e della civiltà contemporanea. Ed è anche un asso portante di sviluppo culturale, sociale, economico, occupazionale, capace di generare molteplici connessioni di filiere produttive, l'artigianato, il commercio, l'industria, l'industria culturale. Il turismo in Italia è un settore strategico per l'economia del nostro Paese. La ripresa post-Covid non può non passare dal rilancio di questo settore, sia a livello nazionale che internazionale. Il turismo per l'Italia, al quinto posto nel ranking delle destinazioni più visitate, rappresentava il 13,2% del PIL e quasi il 15% della forza occupazionale del nostro Paese. Un valore per tutti sviluppato in parti uguali dai flussi turistici stranieri e italiani. Nella ricerca che abbiamo svolto sui principali Paesi europei sono ammersi alcune indicazioni, sfide e opportunità per la ripartenza e rilancio di questo settore e che vogliamo andare a vedere. Innanzitutto, dopo oltre un anno di Covid, non ancora finito, con la prospettiva di Green Passport e nel momento in cui si comincia a intravedere la ripartenza, dove pensano di andare in vacanza gli italiani e gli europei? Ebbene, è stato già anticipato. L'Italia, always in my mind. L'Italia è e rimane in cima alla lista dei desideri della travel wish list degli abitanti dei principali Paesi europei, che rappresentano un mercato di 250 milioni di persone. L'Italia è ancora la prima destinazione turistica per il 70% degli europei, con percentuali oscillanti tra il 68 e l'80%, ha una posizione di attrattività che è certamente una leva da sfruttare per il rilancio del settore. Tuttavia, la nostra posizione competitiva è sempre più contesa e contendibile, da destinazioni che storicamente si pongono come valide alternative di viaggio rispetto al nostro Paese. Alcune le abbiamo citate, non solo europee, ma di tutta l'area del Mediterraneo, ma pensando all'Europa, a Grecia, a Spagna, il Portogallo, la Francia. È una competizione che si gioca su un pubblico, chiamiamolo anche target, di dueling travels, ossia, come ha messo in evidenza questa ricerca, gli europei sono abituati a dividere i loro viaggi tra due destinazioni, in un raggio di azione che si muove tra i nostri, i propri Paesi e appunto l'Europa. La partita competitiva quindi, non appena la safety car uscirà dal circuito, sarà quella nella capacità di attrazione e mantenimento di questa tipologia di pubblico. Da questo punto di vista abbiamo anche individuato alcune sfide e opportunità che la ricerca ha messo in evidenza e che vi elenchiamo e che vediamo poi brevemente nel dettaglio. Una prima sfida quindi è quella di confermare gli Italy lovers e convincere appunto i dueling travels. Una seconda sfida è sviluppare le quattro S che vedremo tra poco e migliorare il percepito di rapporto qualità prezzo. Una terza sfida è sostenere le imprese che offrono ospitalità e sviluppare il turismo sostenibile. Infine una quarta sfida, forse quella più importante, è quella di ritrovare la matrice dei flussi tra nazioni e regioni e sviluppare la matrice di flussi regione all'interno delle regioni. Ma vediamo la prima sfida. È una sfida, è una partita che si gioca su sei segmenti di viaggiatori che si distribuiscono tra fedeli e altamente propensi a tornare in Italia e quelli che sono, possiamo definire, ai distanti, gli occasionali o addirittura ai rejector, quelli per i quali sarà difficile smuoverli dalle loro destinazioni abituali e dalle loro convinzioni. Nei prossimi mesi e anni, come sistema Italia, giochiamo una partita importante, sia per conquistare effettivamente nel breve periodo quei 10-15% di viaggiatori che non sono mai stati in Italia, ma che nella ricerca fatta qualche settimana fa ha messo già al primo posto il paese Italia come preferenza per le prossime vacanze. Dall'altro lato, sia per smuovere con misure strutturali e magari nel tempo medio termine, quel 20-30% di occasionali indecisi che però possono essere decisivi nella bilancia dei pagamenti turistici. Una seconda sfida, sviluppare le quattro S e sviluppare e migliorare la percezione di qualità prezzo del nostro paese. Una seconda sfida si gioca appunto nel fare leva su quelli che sono i nostri punti di forza, i drivers, ossia il patrimonio culturale, lo abbiamo appena ricordato, quello naturale ma anche quello umano, come ricordava il direttore, fatta di accoglienza, simpatia, gentilezza e anche delle qualità delle strutture ricettive che comprendono anche quelle della ristorazione. Ma emerge in maniera piuttosto chiara anche un'area di rafforzamento per il nostro sistema che sono le quattro S che possiamo definire come il sistema delle infrastrutture, la sicurezza, la sanità che abbiamo ben conosciuto in questo periodo e la sostenibilità. È anche interessante notare che comunque verso l'Italia non esistono delle barriere strutturali e assolute, ma sono solo relative di percezione e di convenienza dove vediamo che la comunicazione può avere un suo ruolo cruciale. Una terza sfida è quella di sostenere le imprese che offrono ospitalità e sviluppare il turismo sostenibile. Siamo un paese, come abbiamo già detto e sappiamo, un paese benedetto dalla natura, dal clima, dalla cultura, ma anche dalle imprese turistiche ed è questo un fattore che tutti in Europa, tutti i cittadini in Europa, riconoscono come fattore di distintività, di una filiera che gioca un ruolo competitivo importante e che necessita quindi di essere sostenuta, così come anche del turismo sostenibile. Sostenuta perché? Perché anche nell'era del turista consapevole, iperinformato, ad elevata autonomia di organizzazione del viaggio, una volta identificata la destinazione turistica, si scopre che si cerca prevalentemente una struttura di ricettività gestita, unitamente anche a quelle autogestite o dei servizi complementari, delle strutture complementari. Un'ultima sfida, mi avvio alla conclusione, riguarda appunto la riattivazione dei flussi turistici dall'Europa verso il nostro paese, ma anche all'interno dei nostri paesi. In questo gioca un ruolo fondamentale la conoscenza, la notorietà appunto e la capacità di attrattività delle destinazioni turistiche italiane. Se andiamo a vedere il livello di conoscenza degli europei che hanno gli europei delle nostre regioni, vediamo che la conoscenza è polarizzata o meglio concentrata in alcune poche regioni, no? In quelle in cui vi sono prevalentemente le città brand, le città del patrimonio artistico note in tutto il mondo, ma anche per loro come per le altre evidentemente esiste un potenziale considerevole di sviluppo di notorietà per tutte le regioni all'estero. Ma il fenomeno lo stesso, e questo è un dato sorprendente e come l'abbiamo già anticipato, lo vediamo anche guardando i flussi turistici regione su regione, in quello che è il nostro turismo domestico. È quando scopriamo che in media il 40-50% degli italiani conosce solo di nome una regione. Il viaggio nelle regioni italiane potrebbe essere una prima leva da sfruttare per il rilancio del paese, quasi un invito agli italiani a fare quello che molti di loro non hanno mai fatto, andare alla scoperta delle regioni del bel paese. Per concludere, se il viaggio inizia nella mente delle persone, vediamo quale può essere il ruolo della comunicazione nello sviluppo della notorietà attrattività delle destinazioni turistiche italiane, che possono favorire la riattivazione di quei flussi turistici dall'Europa al nostro interno. E per questo tema lascio nuovamente la parola al professor Scaglioni. Grazie Vincenzo, questa seconda parte della ricerca è forse quella più originale, perché è stata sviluppata appunto dal CERTA, su un tema che diventa sempre più rilevante nell'incrocio fra turismo e comunicazione, cioè il ruolo che i contenuti mediali, i contenuti editoriali e audiovisivi, come per esempio film, serie e programmi televisivi in generale, possono avere nella promozione di un territorio. Si tratta di un tema molto affascinante, sul quale gli studi sono ancora parziali e esporadici. Questa ricerca è partita con una, per questo diciamo è durata oltre un anno, è partita da un'analisi sistematica delle produzioni audiovisive, quindi non soltanto i film come tradizionalmente diciamo si fa, ma anche le fiction, le serie, i programmi di intrattenimento, i programmi di divulgazione, che nel corso degli ultimi vent'anni hanno rappresentato il territorio nazionale. Si tratta di un campione molto ampio, molto variegato, che ha contribuito talvolta in maniera molto evidente a costruire non solo l'immagine, ma potremmo dire un immaginario condiviso su certe regioni d'Italia. Penso per fare degli esempi, insomma in qualche modo a tutti i noti, la Sicilia di Montalbano, l'Umbria di Don Matteo o i tanti borghi ritrovati, esplorati dalla televisione italiana. Il potenziale di alcuni di questi prodotti audiovisivi è davvero molto molto grande, se pensate che sempre di più questi prodotti, penso soprattutto al cinema e alle serie televisive, ecco questi prodotti viaggiano anche all'estero, hanno trovato una loro strada nel mondo e quindi portano con sé anche la promozione dei luoghi del nostro paese. Il territorio all'interno di un film, di una serie, di un racconto in generale, è come un vero e proprio personaggio. Abbiamo sottoposto questo campione di prodotti audiovisivi a un'analisi di questo personaggio territorio, interrogandoci sulla sua identità, se cioè per esempio è riconoscibile o non è riconoscibile, se è giocata in chiave realistica o immaginaria e anche sui ruoli che esso ricopre nella narrazione, se cioè per esempio è un personaggio principale come ad esempio la Roma della grande bellezza, oppure è piuttosto uno sfondo come per esempio la Trieste di La migliore offerta di Giuseppe Tornatore e anche se il territorio finisce per ospitare vicende diciamo ordinarie oppure vicende del tutto eccezionali, penso ad esempio alla serie recente creata da Disney per Disney Plus, I Cavalieri di Castelcorvo. Abbiamo cioè ricostruito delle mappe di questa geografia immaginaria dell'Italia nella quale si collocano in termini di identità e di ruoli dei territori e prodotti mediali veramente molto diversificati e quello che ci ha colpito alla conclusione di questa analisi è che appunto c'è davvero una grandissima varietà di ruoli che questo personaggio ambiente è in grado di incarnare. Naturalmente potete trovare tutti i dettagli della ricerca sulla diciamo sulle presentazioni e anche sul volume che abbiamo realizzato per questa stessa ricerca ma mi volevo concentrare su diciamo quelle che sono emerse come le funzioni che i territori mediali vanno a incarnare all'interno dei racconti audiovisivi. Ci sono davvero diverse funzioni dalle funzioni più semplici come quelle di fondale, di cartolina a funzioni invece più complesse che abbiamo provato a definire. Una funzione TripAdvisor che fa riferimento a quei racconti che attivano un meccanismo di attrazione reputazionale rispetto a strutture ricettive e ristorative. Oppure alla funzione green che caratterizza quei prodotti audiovisivi che valorizzano l'ambiente incontaminato che è ancora tutto da scoprire o ancora la funzione che abbiamo chiamato tradizione che racconta appunto borghi, luoghi, storie che provengono dal nostro passato. Vi ho citato in particolare queste ultime due funzioni, quella green e quella della tradizione perché andando poi a testare queste funzioni sul campione dei rispondenti, abbiamo verificato soprattutto per l'Italia che queste due funzioni, la funzione green e la funzione tradizione, sono due asset molto forti per la valorizzazione del nostro paese, come è stato appunto evidenziato dalla ricerca quantitativa. In particolare sui rispondenti italiani sembra proprio emergere una riscoperta di questi elementi, della dimensione green per il 56% del campione, della tradizione per il 41% del campione e dunque mettendo in evidenza la rilevanza di un turismo che deve essere sempre più orientato ai temi della sostenibilità. Nella ricerca abbiamo non soltanto analizzato, ma abbiamo proprio pesato quanto possano essere rilevanti i contenuti audiovisivi per formare l'immagine dei territori e delle regioni italiane. Il risultato è a mio avviso sorprendente perché per più di un rispondente su due l'audiovisivo, fatto quindi di contenuto editoriale e anche di pubblicità e per quasi un rispondente su due il 47% soltanto i contenuti hanno un peso nel formare l'immagine dei diversi territori e delle diverse regioni italiane. Abbiamo poi provato anche a sondare questo immaginario mediale, abbiamo visto che quello che vedete anche in questa slide, che quello sull'Italia è un immaginario non soltanto efficace come abbiamo appunto sottolineato, ma anche molto ampio e molto variegato, dove per esempio il cinema, da quello classico a titoli più recenti, che sono stati spontaneamente citati dai rispondenti anche in Europa, anche nei cittadini europei, si pensi appunto a Sotto il sole della Toscana o a Chiamami col tuo nome per i film o alla serialità, si pensi di nuovo alla Sicilia del Commissario Montalbano, alla Sardegna dell'Isola di Pietro, ecco tutti questi contribuiscono all'immaginario e alla memorabilità dell'Italia per gli italiani e quando questi prodotti viaggiano all'estero anche per gli europei. Ci siamo poi chiesti come ci si potrebbe rappresentare l'Italia attraverso i generi cinematografici, anche questo è stato una cosa abbastanza interessante, sorprendente, naturalmente c'è un classico immaginario che emerge, che è quello romantico, che insomma in qualche modo è prevalente, ma accanto a questo immaginario del paese, dell'amore, del sentimento, specie in alcuni paesi, come potete vedere da questi numeri, emergono anche delle immagini nuove, delle immagini alternative dell'Italia che si adatta per esempio per racconti che hanno a che fare con l'avventura, con la commedia e con il giallo. La memorabilità dei territori rappresentati dai media va a divergere, lo accennava anche prima il dottor Zulli, va a divergere abbastanza se a rispondere sono gli italiani o i cittadini europei. Per i primi, cioè per gli italiani, le regioni hanno un grande peso, in testa ci sono quelle regioni che sono già molto mediatizzate, penso alla Sicilia, alla Toscana o al Lazio, mentre per gli europei privale un immaginario mediale legato di più alle città, in particolare alla tripletta classica Roma-Venezia-Firenze seguite da Napoli e da Milano. Questa chart ci fa capire però un'altra cosa, quanto spazio ci sia ancora nella definizione di un'identità mediale per regioni e città che non rientrano in quelle che abbiamo chiamato regioni e città brand. Concludo facendo riferimento ad un'altra domanda interessante che abbiamo rivolto al nostro campione e che riguarda di nuovo questa dicotomia che emerge anche nel potenziale immaginario pubblicitario. Ci sono dei territori che sono già stati molto messi a fuoco e che si prestano anche molto a rappresentare l'Italia in una campagna pubblicitaria, ma ci sono territori invece che hanno ancora un grandissimo potenziale di crescita, che appaiono ancora sfumati agli occhi dei cittadini europei e su cui si può lavorare molto in ottica non solamente promozionale, naturalmente attraverso la leva della pubblicità, ma più ampiamente prendendosi anche più tempo nella costruzione di un immaginario mediale attraverso i contenuti di film, di serie e di programmi televisivi. Lascerei a questo punto l'ultima parte della ricerca al dottor Matteo Cardani. In periodo pre-covid il valore dell'investimento turistico era intorno ai 150-160 milioni su base annua. Le destinazioni turistiche che sono l'oggetto del nostro incontro di oggi possono investire tra i 15 e i 17 milioni di euro, quindi siamo a un decimo di quell'investimento. Come vedete quindi un mercato molto frammentato e peraltro concentrato su pochi operatori dove, come vedete, le regioni che avrete capito sono state un po' il focus di questa prima edizione di questo lavoro, hanno un ruolo chiave perché governano il 50% delle risorse di comunicazione. Fin qui abbiamo parlato diciamo di spesa inbound, cioè investimenti pubblicitari su media italiani fatti da operatori italiani per un pubblico italiano. Se andiamo invece a vedere che cosa accade all'estero, quindi diciamo l'investimento outbound, quindi quanto investono i nostri player italiani su media internazionali per attrarre flussi turistici dai quattro paesi europei che abbiamo analizzato, il confronto si traduce in questo numero ancora più basso, 0,3%. Quindi noi abbiamo diciamo una manciata di alcuni milioni di investimenti all'estero contro decine di miliardi di spesa turistica che gli stranieri fanno quando vengono nel nostro paese. Allora anche qui è un fatto strutturale perché spesso fare una campagna all'estero ha delle soglie di investimento che sono una barriera come dire appunto per andare all'estero. La buona notizia è che questa barriera grazie alla tecnologia si sta abbassando. Sono le nuove opportunità rappresentate dalla televisione che è un mezzo con un grande passato, un grande presente e un grande futuro a maggior ragione nel momento in cui la televisione diventa smart tv connessa. Quindi rimane tutta la forza del broadcast che permette di fare ampia copertura, ma la televisione connessa aggiunge anche la precisione del broadband, quindi la capacità diciamo digitale di essere molto precisa e mirare dei pubblici. Che cosa vuol dire questo come beneficio per gli operatori? Vuol dire l'opportunità dell'addressable advertising in Europa che come dice il titolo di questa tavola è un modo efficiente per abbassare le barriere all'investimento all'estero. oggi è possibile fare campagne tv nei principali paesi europei in modo efficiente e scalabile. Non c'è bisogno di comprare una campagna nazionale, ma si può mirare il messaggio nei bacini di utenza a maggior potenziale di spesa turistica. Per fare un esempio concreto posso parlare alle persone della grande Londra o del sud dell'Inghilterra, le persone del bacino parigino, piuttosto che gli abitanti di Madrid e Barcellona o della Baviera e della Regnania facendo televisione ma senza per forza comprare una campagna nazionale andando sul primo schermo esattamente in quelle regioni di utenza. Lo possiamo offrire come gruppo, quindi come Publitalia in particolare con la piattaforma PubliEurope che ci permette grazie alla collaborazione con i principali broadcaster televisivi di questi paesi che vedete, quindi Germania, Francia, Inghilterra e Spagna, di offrire la possibilità di fare campagne con questa modalità efficiente e scalabile. Che cosa ha aggiunto a questo quadro la ricerca che abbiamo fatto? Ha aggiunto fondamentalmente tre cose, quello che io chiamo il paradigma ibrido, un approccio a 360 gradi e l'aido del turismo. Vediamo che cosa vogliono dire queste tre cose. Paradigma ibrido lo vedete rappresentato da questa tavola. In tutti i paesi europei quando chiedete quali sono i media e i punti di contatto che hanno generato l'immagine delle nostre regioni nei nostri concittadini italiani e europei emerge una parità di cambio interessante tra media digitali, media classici e touch point fisici. Lo vedete dai numeri 64, 62, 67 e questo anche nei paesi come UK che sono a più alto sviluppo digitale. Ma di che cosa stiamo parlando? Quando parliamo di digital media parliamo ovviamente di motore di ricerca, social media, blog, siti web. Quando parliamo di punti fisici parliamo di due generi di punti di contatto. Se voi guardate il punto di contatto più importante è qualcosa di non pianificabile, è il passaparola di familiari, amici e conoscenti che di fatto rimanda all'esperienza reale e alla reputazione che una destinazione si riesce a costruire quando il pubblico arriva a destinazione. L'altra cosa comunque è ancora l'importanza e il ruolo che hanno agenzie di viaggi, tour operator qualificati e professionali, i libri e anche poi i veicoli di promozione fisica come le mostre, i convegni, le fiere e non ultimo il ruolo fisico di una professione importante come la guida turistica. Ultimo ma non meno importante vedete nel mezzo la lunga filiera che Massimo Scaglione ha raccontato prima di tutti i touch point del classic media, quindi i contenuti, il cinema, il film, le serie, il branded content, la pubblicità in televisione ma non solo anche in radio, in stampa e in autobomb. Se noi proviamo a disporre idealmente tutti questi touch point per il peso che hanno in una sorta di circolarità, l'immagine che abbiamo a questa. Per l'operatore turistico da una parte la sfida è, c'è spesso un vincolo di bilancio, di risorse che sono contingentate ma c'è anche la grande opportunità di connettere tutti questi touch point digitali, fisici e classici in combinazione inedite, quindi diciamo non esistono barriere assolute per mettere in piedi un'efficace strategia di comunicazione. Questa immagine circolare si completa con un'altra immagine geometrica perché questa immagine suggerisce che tutti i mezzi sono un po' sullo stesso piano, per certi aspetti è vero ma tornando all'intervento di Massimo Scaglioni esiste una gerarchia funzionale che è rappresentata da questa piramide rovesciata. La chiamiamo AIDA e per gli operatori diciamo di marketing e comunicazione assolutamente nota. AIDA è l'acronimo di awareness, interesse, desiderio e azione e quello che è venuto fuori dal lavoro che abbiamo fatto è che i contenuti audio video, la pubblicità sui mezzi classici lavora nella parte alta del funnel quando inizia il viaggio e permette di generare attrazione, interesse, notorietà e desiderio e poi i media digitali fanno la loro parte nella parte bassa del funnel. Allora per esemplificare, estremizzando, un operatore che decidesse sostanzialmente di operare solo ed unicamente su media digitali è come se entrasse in campo nel secondo tempo della partita quando magari il risultato si è già deciso a monte con i media classici che sono essenziali nel generare appunto in quella funzione generativa di notorietà e attrattività, mentre i media digitali hanno una sorta di funzione allocativa come smistatore all'ultimo miglio di dove le persone si orientano ma dopo che è nata il desiderio di viaggiare. Finisco dicendo come gruppo abbiamo sostenuto questo lavoro un anno fa per passione per il paese in cui stiamo e perché crediamo al ruolo della comunicazione dei media e alla competenza che questa università ha sul tema. Cinque cose concrete per la ripartenza del turismo. La prima cosa è che noi come Mediaset News ringrazio i miei colleghi a cominciare da Giulia Ronchi che poi conduce la tavola rotonda, da quando è partita tutta questa vicenda abbiamo dato una copertura informativa continua al settore e non ultimo se visto ieri con l'evento del G20. La seconda cosa che facciamo, Mediaset come dice lo slogan delle nostre campagne sociali, è un'azienda italiana da lunedì forse ancora più italiana che ha a cuore il futuro e quindi parte una campagna per il turismo in Italia, vi farò vedere dopo qualcosa. Abbiamo delle produzioni tv dedicate alla grande bellezza del paese e poi per quello che riguarda noi come persone diciamo della concessionaria di pubblicità offriamo agli operatori due piattaforme di lavoro, due piattaforme di lavoro che sono potenziate da quel database, cinque paesi, venti regioni, venti driver di attrazione che ci permetteranno di sederci da domani con gli operatori e ragionare in due modi. Lato media, come investire in Italia, ma ricordo appunto siamo Public Italia e Public Europe, piattaforma con vista sull'estero e poi noi creiamo spazi media ma creiamo anche contenuti, abbiamo delle capacità a livello di creatività, di factory creativa, di creazione di soluzioni, di branded content, abbiamo visto prima per esempio i borghi ritrovati che vanno oltre l'advertising classico e quindi finisco dicendo che come gruppo accompagneremo gli italiani sulla strada della ripartenza del turismo a giugno e luglio in tv con un prodotto di contenuto culturale assoluto come il viaggio nella grande bellezza che sarà su canale 5 a giugno e a luglio e poi appunto Mediaset non solo ci mette il cuore perché ha a cuore il futuro ma ci mette anche la faccia. Parte una campagna, parti per l'Italia e proprio in occasione di questo evento abbiamo deciso di chiedere a tutti i volti della nostra televisione di metterci la faccia. Saluteremo gli italiani sulla via delle vacanze con oltre 20 cartoline fatti dai nostri volti, 20 cartoline molto personalizzate che con ironia e simpatia augurano a tutti che questa sia l'estate della ripresa del turismo in Italia. Prego la regia di lanciare un brevissimo filmato. Ho girato tutto il mondo ma non c'è nulla di più bello di una vacanza nel nostro paese. Viaggiare in Italia fa bene, a noi e all'Italia. Vi piacerebbe scoprire una miniera di pietre preziose? Allora fate come me, andate in vacanza in Italia. Mi sono affacciata sul mondo e ho scoperto il paradiso qui in Italia, la vacanza migliore per restare a bocca aperta. Perché sorrido? Ma perché sono nel posto più bello che ci sia, l'Italia. L'augurio, la grande speranza di tornare a viaggiare. Abbiamo la possibilità, avremo sicuramente la possibilità di farlo nel paese più bello del mondo, nel paese più ricco di storia, di valietà, di idee, di bellezza, di cibo, di vino e lo faremo, lo faremo a testa alta con i nostri abdominali più o meno scolpiti. Un consiglio? Restate in Italia perché è il posto dove vivono milioni di supereroi e posto più bello al mondo di sicuro non c'è. Parti per l'Italia! Grazie Matteo, le ultime slide eccoci qua. Arriviamo a questo punto alla conclusione di questa presentazione e non resta che ribadire, se riesco ad arrivare al punto, eccoci, non resta che ribadire diciamo i principali risultati di questa ricerca. Li ricordo, risultato molto positivo del brand Italia all'estero, in Europa, ma anche un grande potenziale di scoperta dell'Italia e il ruolo che la comunicazione e i media possono svolgere e anche per promuovere il turismo lungo degli assi che abbiamo evidenziato sono molto interessanti, sono molto sentiti, quali per esempio l'attenzione al green, alla sostenibilità e alla riscoperta delle tradizioni. Possiamo dire davvero in conclusione che il nostro di viaggio non finisce qui con CERTA e vorrei ringraziare i colleghi ricercatori del centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi, i dottori Anna Sfardini, Paolo Carelli e Marco Cucco, ma insieme anche a Cattolica per il turismo e vorrei ringraziare il dottor Mario Gatti, il dottor Roberto Brambilla e il dottor Vincenzo Zulli e con Pubblicitale 80, grazie ancora a Matteo Cardani e a tutto il gruppo per il sostegno che è stato veramente sostanziale, ecco vorremmo arricchire ancora di più il database che abbiamo iniziato a costruire quest'anno e metterlo a disposizione del Paese, creando un osservatorio permanente sulle tematiche del turismo e della comunicazione del turismo. Grazie davvero a tutti, adesso lascio la parola a Giulia Aronchi e alla tavola rotonda che discuterà di questi e di altri temi, grazie davvero. Buongiorno, ben trovati, innanzitutto vado a presentare subito i nostri ospiti, la dottoressa Alessandra Priante, direttore Europa dell'Organizzazione Mondiale per il Turismo, buongiorno, ben trovata. E poi il dottor Giorgio Palmucci, presidente di Eni dell'Agenzia Nazionale per il Turismo, buongiorno e ben trovato. Allora, partirei proprio con la dottoressa Priante che ha da mostrarci come introduzione un filmato che è veramente esplicativo di come il Covid abbia impattato sul turismo, non soltanto a livello italiano, naturalmente ma a livello mondiale e questo è il punto di partenza essenziale per il rilancio. Prego. Grazie. Grazie a tutti. 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 Oltre questo. Può essere un po' più complicato di prima, ma credere, può anche essere facile, perché, passare bene, non significa, It means enjoy, respect. Dicevamo il potere della comunicazione. E' una volta che lo rivedo questo video, veramente. Per noi è, diciamo, la campagna Restart Tourism che è qui riassunta con un hashtag, è partita l'anno scorso, il primo luglio del 2020, proprio qui dall'Italia. Perché eravamo rimasti tutti molto colpiti alle Nazioni Unite del fatto che per la prima volta questa pandemia, voglio dire, eravamo abituati a altri eventi, vulcani, SARS, crisi economica. E per la prima volta questa pandemia aveva colpito il cuore del turismo mondiale. Perché alla fine l'Europa, in particolare l'Europa del Sud, a partire da noi, siamo veramente storicamente il cuore del turismo. E quindi il mio segretario generale ha voluto lanciare un grande messaggio, deve dire, assieme a tutte le autorità italiane, grazie all'ospitalità di Enit, abbiamo proprio lanciato la nostra campagna qui in Italia. E l'abbiamo fatto con l'idea di trasmettere, che è un po', diciamo, un obiettivo che non smette mai di perdere importanza, di trasmettere veramente la fiducia nell'esperienza turistica. Per cui noi con questo video volevamo lasciare l'aspetto emozionale ancora abbastanza aperto, e soprattutto, che è molto difficile, le assicuro, soprattutto cercare di lanciare un messaggio positivo al di là di tutto quello che, insomma, sentiamo e che ci viene detto di fare. Abbiamo cambiato la nostra vita e siamo tutti colpiti, questa è la verità. E tutti anche un po' impauriti, per cui anche la sicurezza nel viaggiare è diventata un elemento importante, però sicurezza non deve significare anche stress, perché poi se io associo la vacanza allo stress, sto a casa. E quindi la motivazione al viaggio deve sempre rimanere molto alta, in questo senso è importante che lavoriamo tutti assieme. E mi è piaciuto molto, devo dire, la metafora del ministro prima sul discorso della safety car, perché effettivamente è quello, cioè il turismo è emozione. Forse noi siamo andati tutti molto, molto veloci, ci siamo preoccupati in particolare dei numeri, eravamo tutti a dire, ho avuto più turisti dall'anno scorso, siamo cresciuti del 3%, noi siamo arrivati alla fine del 2019 con dati di un miliardo e mezzo di persone, cioè il 20% della popolazione mondiale in viaggio, per poi renderci conto che dovevamo fermarci. E quindi non potevamo più fare nulla e quindi quello che era una scarica di adrenalina doveva ripartire da degli elementi molto, diciamo, concreti. Quindi in questo senso la comunicazione è per noi un ingrediente essenziale. Con questo bel messaggio di speranza e mi collego con la prossima domanda al dottor Palmucci, perché c'è, se vogliamo, un effetto non negativo del Covid, che tanto ha impattato sul turismo, potrebbe essere l'occasione di scoprire dei territori meno conosciuti. L'ho detto anche ieri il Premier Draghi, insomma l'Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo e un'occasione potrebbe essere proprio quella di ripartire dai territori meno conosciuti. Quindi se ne parla molto anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i fondi per il rilancio dei piccoli bordi. E se andiamo alla slide, anche nella nostra ricerca, per la ricerca del CERTA, emerge un dato in particolare, quello del 50% solo degli italiani, figuriamoci, gli stranieri, conosce le regioni italiane solo per nome, che è un dato abbastanza scioccante. Però adesso ci sarà più libertà a mano negli spostamenti, si potrebbe ripartire da lì. Naturalmente ci vuole una programmazione ben precisa per capire come destinare tutti questi aiuti che arriveranno dall'Europa. Certo, intanto grazie dell'invito ed è stato veramente molto interessante ascoltare la presentazione, questa ricerca, perché ha dato degli input importanti anche proprio per le strategie, per le azioni soprattutto di promozione che anche noi come Agenzia Nazionale sulla quale stiamo lavorando. Dopo praticamente, come ha detto anche Alessandro, 2019, nella quale avevamo raggiunto dei risultati straordinari, vedere improvvisamente bloccare qualsiasi cosa, quindi abbiamo dovuto cambiare, abbiamo dovuto in primo luogo interrompere qualsiasi nostra attività che era prevista proprio per una crescita, una crescita anche per il 2020, una crescita ma non soltanto in volume ma anche a valore, e quindi ripartire da zero, quindi se fiete calva benissimo, ripartire e approfittare, tra virgolette, di un'occasione così negativa ma così straordinaria per evitare anche di fare degli errori fatti in passato e quindi ripartire cercando di guardare alla ripresa di flussi turistici che permettano anche di evitare quei fenomeni di overturismo comunque legati quindi alle problematiche sulla sostenibilità che sono fondamentali e che sono emersi anche nella ricerca dell'attenzione in cui il turista dà alla sostenibilità. Ora e questa sostenibilità significa che in questo momento nessuno soffre di overturismo e per cui è necessario anche andare a riscoprire, a rivisitare o a visitare quelle che sono quelle destinazioni già note, però oltre a questo dobbiamo ricordare che cos'è l'Italia, qual è la ricchezza straordinaria che noi abbiamo di varietà di territori, di varietà di turismi che il nostro paese può offrire e il considerare che bisogna lavorare proprio in una presenza di flussi turistici durante tutto l'arco dell'anno quindi destagionalizzare, non concentrare negli stessi periodi di vacanza alle quali ero abituate, la villeggiatura degli italiani degli anni 50 e 60 ma cercare quindi di destagionalizzare e deconcentrare deconcentrare e quindi andare a scoprire quello che il nostro paese offre quindi pensate che in Italia abbiamo 55 siti UNESCO e sfido oltre che gli italiani che non conoscono le regioni figuriamoci se chiediamo quanti italiani conoscono i 55 siti UNESCO e sinceramente anche io dovessi elencarli avrei difficoltà ma 55 siti UNESCO, pensate che più del 60% sono in comuni che hanno meno di 5.000 abitanti quindi significa proprio che andare a riscoprire quelle destinazioni meno note che io non amo quando uno li definisce di Italia minore o comunque delle destinazioni minore no, sono delle destinazioni meno conosciute e che devono essere scoperte e la prima cosa da fare è proprio quella di andare a raccontarlo agli italiani cioè gli italiani devono conoscere di più il proprio paese perché molto spesso i turisti stranieri in modo particolare quelli che da più tempo vengono in Italia tipo il turista tedesco che rappresenta quasi il 30% di turisti stranieri molto spesso ci accorgiamo che conoscono l'Italia molto più di noi italiani quindi noi dobbiamo approfittare soprattutto di quest'anno in cui ci sarà comunque un turismo di prossimità in cui ancora le rotte intercontinentali bisognerà ancora attendere comunque partiranno con una maggior lentezza andare a far scoprire l'Italia agli italiani ai paesi vicini, quindi ai paesi europei che come è stato detto all'inizio proprio della presentazione comunque vedono l'Italia come la destinazione più ambita, più desiderata e come sa bene Alessandra non è soltanto dei turisti europei ma a livello mondiale l'Italia è e continua ad essere la destinazione più desiderata per una vacanza e per un viaggio Assolutamente, e accennavo a questo termine prima il dottor Palmucci se ne parla molto anche nel recovery plan la sostenibilità, ecco altri investimenti importanti sono da destinare a sostenibilità e digitalizzazione due punti su cui avete moltissimo a cuore voi naturalmente l'Organizzazione Mondiale per il Turismo perché è importante rafforzare queste aree per il futuro del turismo sostenibilità e digitalizzazione? Allora per noi, vabbè, noi ovviamente essendo agenzie delle Nazioni Unite per noi la sostenibilità è assolutamente la parola chiave perché noi abbiamo un obiettivo molto chiaro che è l'agenda 2030 con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile la sostenibilità, diciamo, non solo noi la predicavamo da sempre, ok? è la nostra mission e come visto che siamo in un ambiente universitario, accademico, scientifico la sostenibilità è sostenibilità economica, ambientale e sociale ci siamo ritrovati in questa pandemia a, diciamo, in cui, come ricordava Giorgio prima sostanzialmente siamo veramente ripartiti da zero quindi era molto difficile comunicare alle imprese a cui si stavano già chiedendo degli sforzi per delle misure di sicurezza piuttosto che, no, le sanificazioni l'occupazione al 50% quindi già l'impresa si è chiesto molto in questo periodo quando ha potuto operare, ovviamente e gli si è detto ricordati che devi essere sostenibile diciamo che la sostenibilità si applica a vari livelli perché la sostenibilità è da un punto di vista dell'offerta sicuramente importante quindi investimenti che vengono richiesti ma è anche la nostra scelta di singoli cioè anche noi possiamo essere sostenibili possiamo fare delle politiche sostenibili delle pratiche sostenibili quello che noi abbiamo notato è che le destinazioni che hanno compreso come l'investimento in sostenibilità fosse in realtà un investimento prospettico sono quelle che nel periodo in cui ci sono state le riaperture si sono trovate a poter riaprire i confini piuttosto che operare in maniera molto più fluida degli altri questo perché? perché la sostenibilità implica una visione programmatica molto forte cioè implica una non improvvisazione ad esempio implica una domanda molto semplice che però spesso le destinazioni non si fanno cioè quante persone e che tipo di persone voglio ricevere io qual è la mia, il mio territorio per esempio Giorgio citava prima il piccolo territorio il piccolo territorio domanda vuole ricevere turisti? può riceverli? è nelle condizioni di gestire quel flusso? perché il problema vero si crea quando non c'è un reale monitoraggio cioè quando in realtà si dice sarei molto contento se venissero dei turisti ma non ho praticamente molto da offrire non ho magari strutture recettive non ho magari sufficienti ristoranti non ho un'offerta organizzata per poter comunicare ad esempio il patrimonio enogastronomico locale una cosa veramente semplice ma in realtà essenziale e molto importante quindi le scelte sostenibili sono quelle che hanno condotto alcuni paesi ad essere in questa situazione un po' più pronti degli altri e noi abbiamo oltretutto notato siccome tra i nostri vari report che facciamo e vi invito in particolare invito gli studenti a seguire su www.genwto.org perché li pubblichiamo regolarmente abbiamo verificato che nella parte che dedichiamo al monitoraggio delle restrizioni al viaggio siamo passati nel 2020 in alcuni mesi al 100% delle destinazioni completamente chiuse cioè non si poteva andare da nessuna parte ricordiamocelo quello è stato il vero dramma abbiamo notato che c'è una correlazione matematica tra la facilità, la riapertura e le scelte sostenibili ovviamente in positivo cioè quanto più le destinazioni i paesi hanno implementato la sostenibilità da parola bella della policy a pratica ripeto nei suoi tre aspetti quanto più è stato facile e organico riaprire i confini questa è una cosa fondamentale perché noi ci rendiamo conto ad esempio il messaggio dei Draghi ieri è fondamentale c'è un primo ministro che dice venite in Italia e fa più di qualsiasi a proposito di comunicazione più di qualsiasi campagna pubblicitaria milionaria siamo ne certi in una situazione del genere è chiaro che quando si comunica che c'è una preparazione ci sono delle scelte locali anche con attenzione ad alcuni aspetti ad esempio di rispetto all'ambiente questo crea molto più agio nel potenziale consumatore nel turista perché il turista questo è provato da studi che vi invito a verificare anche sul nostro sito è anche più disponibile magari a una percentuale in più di spesa si sa che la destinazione che lo accoglie non solo è sicura ma fa anche delle politiche ad esempio di rispetto all'ambiente di gestione dei rifiuti di gestione del consumo dell'acqua o comunque di integrazione in maniera un pochino più passatemi il termine olistica all'interno di un territorio quindi il turista sa che non sta più invadendo un territorio perché non ce lo possiamo più permettere con numeri assolutamente proporzionati ma diventa parte integrante di quel territorio vi assicuro che l'esperienza di questo tipo è un'esperienza che non solo si destagionalizza ma si prolunga cioè non è più il weekend ma diventa la settimana diventano dieci giorni diventa il mese che si decide di passare in un luogo perché quel luogo mi consente un'esplorazione che magari ha dei ritmi in questa fase sicuramente diversi quindi ovviamente non mordi e fuggi ma molto più profondi che attenzione creano una cosa che per il turismo è fondamentale cioè la memoria non c'è miglior diciamo promotore di un territorio lo dico con il grande rispetto ovviamente per le agenzie nazionali di promozione del turismo del turista che fa un'esperienza meravigliosa e che la racconta quello che in inglese si chiama il word of mouth quindi il passaparola che la racconta a persone che la raccontano a persone che la raccontano a persone e questo è un processo sicuramente più morbido più lento ma molto più duraturo e secondo me è proprio per questo che noi siamo ancora nell'immaginario di tutti perché quel passaparola è ancora il nostro punto di forza più grande mi ha lasciato una palla bellissima perché la prossima slide che vorrei mostrare è quella che riguarda proprio il viaggio il viaggio che parte dalla mente dunque dobbiamo farci trovare pronti dobbiamo farci trovare trovare pronti anche a livello di digitalizzazione sicuramente ma la promozione non può avvenire solo sul web in digitale non può prescindere dai media audiovisivi cosiddetti media tradizionali quindi ad esempio l'idea di un viaggio può partire da uno spot una campagna pubblicitaria un grande evento una fiction un film bisogna ragionare bisogna investire anche in questo senso no? assolutamente necessario cioè non bisogna pensare ed è questo che si vista anche nella ricerca non bisogna pensare che il fatto di aver vissuto il lockdown di essere rimasti di non aver avuto la possibilità di viaggiare si possa pensare che la soluzione nella ripresa dei flussi ci sarà soltanto attraverso una promozione digitale cioè sicuramente il digitale è importante e per la rapidità con la quale può raggiungere determinati anche in momenti così complessi può essere facilmente raggiungibile in ogni parte del mondo però non può che esserci un mix come viene indicato un mix tra quelle che sono le attività diciamo di comunicazione con i mezzi tradizionali tra virgolette tradizionali perché anche nei mezzi tradizionali c'è tantissima innovazione e il digitale ma è anche per questo che abbiamo quello che abbiamo fatto anche nel corso di quest'anno abbiamo sì aumentato parte della promozione che facevamo fisica in digitale perché per forza non c'era alternativa ma era assolutamente necessario mantenere il link il contatto con quelli che sono sia i potenziali turisti sia gli operatori e per cui abbiamo comunque lavorato per sostituire quegli incontri fisici che avevamo attraverso le fiere attraverso i meeting attraverso con delle formule come i webinar di cui ci siamo ormai abituati e con tutti i sistemi di streaming però ciò non toglie che soprattutto nel momento in cui comunque l'esperienza di viaggio non può esserci per motivi legati alla pandemia quindi alle misure di contenimento della diffusione della pandemia è ovvio che era importante lavorare sulla comunicazione attraverso per esempio il cinema ed è per questo che anche come Agenzia Nazionale del Turismo abbiamo partecipato sia al Festival di Venezia parteciperemo al Festival di Taormina quello di Roma perché attraverso il cinema si può trasmettere quindi quelle emozioni si può raccontare quello che è un territorio e soprattutto non è soltanto il mostrare la cartolina cioè il far vedere quella la torre di Pisa piuttosto che il Colosseo piuttosto che l'Etna ma invece all'interno di un contesto all'interno di una storia perché attraverso quello che fai venire il desiderio il desiderio poi di partire il desiderio poi di venire a visitare questo il nostro meraviglioso paese per cui bisogna riuscire a trovare quel giusto mix e che serve non soltanto poi nel raggiungere il B2C quindi diciamo il viaggiatore il turista finale ma anche coloro i quali lo raccontano quindi sia in bassa parola e sia tutto quello che permette di collegare quella destinazione con quell'esperienza di viaggio che poi intende suscitare per cui in questo senso anche nei nostri piani 2021 e 2022 stiamo proprio lavorando insieme con il ministero per l'utilizzo di quelli che sono gli strumenti ripeto sia tradizionali e sia digitali ovviamente come la revisione completa del sito italia.it che è un sito che è stato realizzato tantissimi anni fa e che è assolutamente necessario che venga completamente rinnovato però unendolo con quelle che sono le attività tradizionali di comunicazione obiettivo fondamentale anche perché non nascondiamoci dopo il covid soprattutto nei primi mesi l'Italia ha subito un gravissimo danno di immagine a livello di sanità di sicurezza quindi è necessario rafforzare anche queste due aree forse la dottoressa Prianti ha un altro slide da mostrarci dell'effetto covid in correlazione magari ad altre pandemie del passato altri eventi in passato che ci hanno scosso allora non so se la slide perché noi in realtà ne abbiamo condivise un po' perché il nostro dipartimento di market intelligence è stato molto proficuo mi piace comunque che c'è ancora il funnel l'imbuto di prima meraviglioso a me la parola awareness di consapevolezza è una grande parola per me io comunque volevo unirmi a quello che diceva Giorgio perché effettivamente ci sono degli aspetti fondamentali che dobbiamo un pochino recuperare è come se stessimo in questo momento pensando a una veramente a un'industria anche abbastanza tradizionale perché noi è vero che diciamo che il turismo ha la catena del valore più ampia che esiste tra i vari settori è vero anche che questo un po' ci ha penalizzato lo dico proprio da questo lato perché comunque il livello di advocacy che noi dobbiamo fare con i governi che spesso cambiano con le istituzioni con noi per esempio a livello di agenzia delle Nazioni Unite quindi turismo mondiale parliamo con altri tipi di istituzioni tra cui ad esempio l'Unione Europea noi quando ci parlavamo fino a due anni fa il turismo era onestamente una unità di una diciamo di un portafoglio di un commissario ora finalmente addirittura nelle riunioni di consiglio europeo parlano di come salvare l'estate e quindi in qualche modo il discorso del turismo sta entrando nella sua importanza economica sociale e anche di impatto ambientale nella narrazione di tutti e in questo senso la narrazione insisto è un elemento fondamentale perché noi stiamo parlando del discorso di una ripartenza legata all'ambito della comunicazione è anche vero che è importante comunicare quando si è pronti perché poi comunicare cioè creare l'aspettativa ma creare delusione è quasi più dannoso dell'altro per cui è molto importante che in questa fase infatti sono molto felice che veramente credo ci sia maggiore consapevolezza in Italia dell'importanza di farlo in questa fase la programmazione soprattutto la concertazione a livello diciamo verticale e orizzontale quindi industria quindi pubblico privato e pubblico in tutti i suoi aspetti è assolutamente fondamentale perché parlando di narrazione ci sono oggettivamente dei paesi che sono molto più bravi di noi a comunicare consentitevano io ho nella mia regione sono il direttore di una regione di 42 paesi quindi li osservo e parliamo anche dell'Europa matura e si preparano prima sono più reattivi e soprattutto danno grande grande importanza alla parte diciamo di comunicazione nei confronti dell'interno e dell'esterno quindi quando si veramente si potrà ripartire avremo una concorrenza molto avverita quindi è importantissimo che veramente si comprenda anche con un po' più di umiltà che è importante è vero che abbiamo 20 regioni è vero che siamo un paese diverso però se non ci mettiamo in testa di essere un pochino più uniti e di avere una prospettiva un pochino più di lungo termine diventa difficile diventa difficile anche per l'agenzia nazionale che poi io me lo ricordo dai miei diciamo dai miei anni di esperienza in Italia l'ENIT è un po' il capo espiatorio di molte cose ah qualcosa non funziona è colpa dell'ENIT io l'ho sempre ritenuta per esempio una posizione molto ingiusta perché obiettivamente l'ENIT dall'altra parte deve invece cercare di far ragionare 20 regioni che hanno la tendenza ad andare per conto loro in questo senso il primo intervento di policy di unificare con il ministero del turismo è importante ma in questa fase bisogna veramente rimboccarsi le maniche e lavorare assieme perché gli altri paesi lo stanno facendo noi abbiamo tra le varie cose che facciamo diciamo non vi ho voluto tediare con il meno 87% con il meno 73% rispetto alle altre diciamo grandi crisi mondiali che erano piccoline piccoline come impatto invece qui siamo veramente con delle cifre abnormi vi volevo lanciare un messaggio positivo cioè noi ovviamente l'altra faccia della medaglia è che facciamo dei forecast delle previsioni la nostra previsione l'anno scorso era un pochino più rosa perché ci aspettavamo che ci sarebbe stata una riapertura soprattutto dell'area Schengen che non c'è stata quindi ora compatibilmente con i livelli di vaccinazione negli altri paesi e parlo degli paesi al di fuori del continente europeo parlo di Russia parlo di Medio Oriente parlo di America parlo anche di Cina perché anche la Cina diciamo è abbastanza pronta noi riteniamo che se veramente si riesce a far riaprire anche attraverso l'uso dell'EU Digital Green Pass i confini del blocco europeo veramente possiamo ricominciare a parlare di livelli di turismo che secondo noi torneranno a livelli del 2019 in una forchetta di anni che va da due e mezzo e quattro anni quindi diciamo nel giro dei tre anni dovremmo aver bene o male recuperato quello che dobbiamo assolutamente evitare è che in questa fase si perdano le piccole e medie imprese perché oggettivamente parlando il settore del turismo specie in Europa è costituito dalle cosiddette MSME cioè le medium small enterprises e micro anche quindi tutte le professioni che erano nate nel periodo più florido del turismo la diversificazione che c'era a livello occupazionale quella un po' rischieremo di penderla ma dobbiamo assolutamente evitare che ci sia un tasso di mortalità troppo alto perché se finisce l'impresa è finito il turismo quindi in questo senso è veramente grande supporto ai governi come il governo italiano che mettono la longevità delle imprese al primo posto ma anche quelle che consentitemi visto che siamo in un ateneo continuano a porre grande attenzione sulla formazione nel turismo perché questo è accanto alla parte dell'innovation che per noi è da sempre un grande pilastro e attenzione innovazione non digitalizzazione basta perché digitalizzazione è solo una piccola porzione però per noi la parte education è una parte fondamentale il fatto che non si perda mai la fiducia nel fatto che questa è una professione per i giovani e l'input che deve venire dai giovani è assolutamente fondamentale pensiamo a quello che si parlava di generazioni millennials generazione Z generazione Y i ragazzi di ora che studiano in pandemia sono quelli che tra un paio d'anni potranno già veramente iniziare a viaggiare e quindi sono loro che sono il vero obiettivo dei nostri interventi e quindi veramente approfitto della presenza del rettore va a lei tutto il nostro supporto il nostro applauso a tutti voi che continuate a farlo anche a lei che mi dicono essere una studentessa cattolica è fondamentale che si il sistema proprio così diciamo strutturato inglobi anche la parte accademia anche la parte education perché deve essere un sistema che si nutre e un sistema che è nutriente ma che genera nutrizione per il mondo del turismo in genere e per l'immaginario di tutti noi perché diciamocelo cioè senza turismo noi non siamo neanche degli esseri umani e a proposito di futuro quella ripresa lì ci sarà se come ha detto il ministro acceleriamo e se non perdiamo le occasioni del momento abbiamo davanti a noi anche dei grandi e importantissimi eventi e se ne parla tanto anche nel recovery plan e sono ad esempio per citarne alcuni le olimpiadi 2026 il giubileo 2025 la rider cup del 2023 quindi non dobbiamo perdere queste occasioni no diciamo che è proprio un qualcosa nella quale molto spesso in Italia abbiamo affrontato questi grandi eventi mondiali o internazionali che si sono svolti nel nostro paese sempre con un certo ritardo per cui non so se vi ricordate insomma la preparazione dell'expo non è stata particolarmente semplice e quindi adesso devo dire che è comunque sempre più chiaro per chi lavora nel settore del turismo che l'evento e l'evento internazionale l'evento mondiale sono anche un enorme strumento di comunicazione quindi non è soltanto l'evento in sé pensate soltanto anche a quello che è successo con Matera 2019 ma il fatto di Matera la capitale europea della cultura questo è stato una veramente un'immagine di una parte dell'Italia poco conosciuta ma che non ha un'importanza soltanto non ha avuto un'importanza soltanto come flussi turistici nell'anno in cui Matera è stato capitale europeo della cultura ma dopo sono gli effetti volano gli effetti successivi che derivano dall'evento per cui come le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 come l'area del Cap come il Giubileo ovviamente che anche in questo caso è estremamente importante e non solo per Roma e poi soprattutto perché l'evento ti permette poi di raggiungere quella destinazione nella quale viene svolta quella manifestazione o quell'evento particolare ma poi devi cercare di prepararti e programmare per fare sì che coloro i quali parteciperanno a quell'evento poi vadano a scoprire il nostro paese non si limitino a restare durante la manifestazione ma che diventi la possibilità di allungare anche la permanenza media dei turisti nel nostro paese come ha detto prima anche Alessandra c'è l'importanza di riuscire ad allungare anche la durata della permanenza proprio per la grande ricchezza che poi ha il nostro paese per cui se vai a Cortina per le Olimpiadi cioè da Cortina poi quanto hai da scoprire anche soltanto se fai se usi un compasso senza un eccessivo agio di ametro ma di andare a vedere cosa c'è intorno per poterlo andare a scoprire per cui su questo anche come con il Ministero come agenzia lavoriamo perché l'evento e lei ha citato questo ma ci sono anche degli eventi ripetitivi in questo momento per esempio l'anno scorso l'unico evento che c'è stato veramente in Italia è stato il Giro d'Italia ma noi come agenzia nazionale e anche quest'anno saremo insieme al Giro d'Italia perché il Giro d'Italia ti permette di raccontare quelle territori che vengono attraversati dal Giro da un punto di vista turistico e quindi visto che come il Tour de France in Francia ma il Giro d'Italia viene trasmesso praticamente in tutti i paesi del mondo e poi fa scoprire quello che è il territorio che poi può essere scoperto e non soltanto in bicicletta ma anche con tutti gli altri mezzi quindi da questo punto di vista gli eventi devono essere programmati anticipatamente e bisogna lavorare proprio per costruire per fare in modo che gli operatori costruiscano anche dei pacchetti che possano essere già pronti perché quello che cerca anche il turista è la facile accessibilità che non è soltanto accessibilità fisica ma poi anche accessibilità a quelli che sono le visite dei musei l'utilizzo dei mezzi di trasporto la prenotazione del ristorante piuttosto che dell'albergo cioè bisogna cercare di rendere il più semplice possibile quello che è poi la visita del turista perché come sempre diceva prima Alessandra cioè non dobbiamo cioè il viaggiare non deve essere uno stress e non soltanto per la pandemia ma anche prima della pandemia avevamo comunque delle incongruenze delle carenze a livello della facilità di accessibilità del nostro paese che anche attraverso il piano nazionale di resilienza e di PNRR insomma sarà sicuramente possibile cioè non sono soltanto quegli porti stanziati come turismo come ha detto prima il ministro Garavaglia però i fondi che sono destinati ai trasporti i fondi che sono destinati alla transizione ecologica e quant'altro sono tutti dei fondi che poi hanno un effetto un impatto per il turista e per il viaggiatore che verrà nel nostro paese Perfetto e allora io ringrazio naturalmente gli ospiti i relatori il rettore il ministro grazie davvero possiamo concludere ma prima di concludere voglio ricordarvi che tutto questo materiale questa ricerca un estratto della pubblicazione sono già disponibili sul sito del CERTA il centro di ricerca sulla televisione sugli audiovisivi che è www.centridiricerca.unicat.it slash CERTA grazie mille grazie davvero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti